Ecco come si presenterà il nuovo pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il progetto, dopo tre anni di studio, è pronto e i lavori dovrebbero concludersi entro il 2027. Conosciuto come Torre Galli, tra Firenze e Scandicci, il nuovo pronto soccorso, un edificio su tre livelli costruito sul retro dell'attuale ospedale, avrà il triplo dei posti letto rispetto ad ora, sono 27, saliranno a 80. Una superficie di 4.000 metri quadrati, sei volte quella del pronto soccorso esistente e spazi sufficienti per gestire 70.000 accessi l'anno, ora sono 20.000. Ma sarà soprattutto la sostenibilità ambientale, la tecnologia e la sicurezza renderlo un pronto soccorso all'avanguardia che i progettisti non esitano a definire rivoluzionario. Un'opera da 40 milioni di euro tra costruzione e allestimenti che comprenderà innovazioni soprattutto in reparti come quelli di radiologia diagnostica e un monitoraggio del malato molto più preciso, con una iperconnessione e fluidità delle informazioni tra ogni letto e i sanitari. Tra le novità, anche un'area per il fine vita, nella quale il paziente potrà rimanere con la famiglia in totale privacy, così come maggiore privacy sarà garantita ai codici rosa, ai detenuti e ai pazienti psichiatrici. In generale, meno open space e più spazi singoli. La lezione del Covid, in cui è stato necessario separare velocemente alcuni tipi di pazienti, è confluita nel progetto, che prevede di affrontare eventuali pandemie future con più facilità, almeno logistica. Quanto alla sicurezza, i camici dei medici e degli infermieri avranno un dispositivo anti-aggressione che scatterà in caso di pericolo lanciando un allarme. Saranno circa 130 le persone che lavoreranno all'interno del nuovo pronto soccorso. Una realtà così, oggi, non esiste in altri ospedali, raccontava giorni fa Repubblica Gianfranco Giannasi, direttore del pronto soccorso di Torregalli e parte attiva, nel far arrivare ad architetti e ingegneri suggerimenti su come risolvere in maniera concreta i bisogni di sanitari e pazienti.